Ancora buone notizie per Fano, questa volta per tutti i residenti del quartiere di Gimarra. Dopo la costruzione dell'edificio denominato Fano Alta e lasciato in abbandono a se stesso da ormai dieci anni e le numerose aste, finalmente si vede una luce in fondo al tunnel. Dai giorni scorsi tutta l'area interessata che fiancheggia la nuova chiesa del Carmine è stata finalmente acquistata da un imprenditore locale per un investimento totale di circa 2 milioni di euro. Il progetto, oltre a completare i lavori, vede anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione. È un imprenditore nato a Fano, Forcinelli Fabrizio, che si è appunto fatto carico di questo investimento avendo partecipato all'asta e quindi probabilmente in tempi anche ragionevolmente rapidi riusciremo a trovare una soluzione definitiva a un problema che veramente da dieci anni che è all'interno del quartiere di Gimarra. Finalmente dunque, oltre alle opere di urbanizzazione che inizieranno a breve, che saranno fatte dall'impresa che aveva garantito le fiduzioni continueranno anche le opere successive di finire quella edificazione e anche sistemare tutto quello che rimane intorno a questa e questo credo che sia una notizia molto positiva. finalmente Gimarra, alla fine di questo investimento e se tutto andrà bene, potrà avere dei servizi aggiuntivi perché oltre alla costruzione di una trentina di appartamenti c'è anche la possibilità di realizzare uffici e al piano terra anche un po' di negozi in maniera tale che veramente Gimarra possa avere un centro di quartiere che si sviluppa tra la chiesa e il nuovo centro civico che abbiamo appena recentemente inaugurato. Un'ottima notizia questa che darà quindi standard parcheggi, dà la possibilità di avere un po' più di verde pubblico, un'ottima notizia, una notizia che ci fa molto piacere e si chiude finalmente una partita sul quartiere di Gimarra molto molto difficile.